No ai bandi, sì agli avidesmarché. Sono così iniziati i tempi supplementari per la Torino-Lione e può proseguire così per altri sei mesi la partita tutta interna al governo sulla TAV. La possibilità prevista dal Codice degli Appalti Francese di non dare seguito alla procedura avviata in giornata dal Consiglio di Amministrazione della TELT consentirà infatti di pubblicare gli inviti e presentare le candidature senza alcun vincolo giuridico per l'Italia. In sostanza è iniziata la prima fase del bando con l'annuncio alle imprese interessate ai lavori di farsi avanti e presentare i propri curricula. Attenzione però, tra sei mesi la TELT potrebbe tirarsi indietro e quindi niente capitolati d'appalto. Nessuno stop dà al governo quindi, ma neanche un via libera. La cosiddetta clausola di dissolvenza consentirà al governo l'ennesima mediazione per convincere Parigi a cancellare l'opera o in subordine modificarne la ripartizione delle spese se non addirittura il tracciato previsto. Di certo c'è l'appuntamento con gli stati generali della logistica del nord previsto per il prossimo 15 marzo a Milano. Secondo le intenzioni dei promotori, le regioni Piemonte, Liguria e Lombardia avranno così l'occasione per fare il punto sulle grandi opere strategiche oltre che per presentare al mercato e agli operatori una piattaforma logistica integrata e unitaria in grado di competere con i sistemi del nord Europa. L'incontro si terrà a Palazzo Lombardia a Milano e oltre ai tre presidenti Chiamparino, Toti e Fontana vi sarà anche il vice ministro alle infrastrutture Edoardo Rixi che chiuderà i lavori.